Grazie. 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 Il primo per la Germania, Norbert Demmel, secondo Iver Hiten, secondo il Norbergese Hiten con 50-84 mentre il tedesco 53-55. Al terzo posto il finlandese Tirprese, il finlandese Harry Auranen, 48 e 35. Tra breve, inizieremo con le serie dei 60 metri, al maschile ben 59 le batterie. Mentre vediamo entrare il salto in alto riservato alle donne 40 e ovviamente alle donne 45. Vediamo anche un'immagine del martello con maniglia, sempre in esterno. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.